Non lo so, comunque, con i Giamboi, sia su un sito internet, ma anche sulla mia pagina Facebook. Adesso invece, io ho visto tra il pubblico mio marito. Ho visto il mio marito che non ha ben capito che sta facendo qua, visto che mi ha lasciato. Insomma, vediamo un po'. Insomma, mi squeliccia questa storia. Per alto! Per alto! Per alto! Per alto! Per alto! Grazie.